così pazzo ragazzi ha sfondato il muro guarda qua questo signore dal garage è venuto dentro alla mia proprietà non c'ho mai visto una cosa questa immagine fatta la macchina ma che ne so ci mi ha ruminato la macchina guarda qua è una cosa in grado dico non ti muovere sta venendo tuo fratello ti prende l'acqua c'è solo una rucarrettezza 26 febbra se non mi sbaglio che bizzarrie giovinotti ha smantellato l'architettura muralia questo nobile uomo dal suo box auto si è incuneato nel mio latifondo già mai ho visionato tale accadimento nel corso della mia esistenza avevo aurora messo a punto il mio mezzo di locomozione cosa accade non saprei mi ha allogorato la vettura periziate qui è davvero mirabolante che perdurato stupore ragazzi ma che diavolo non modifichi la sua locazione sta sopraggiungendo il suo maschile congiunto la preleverà resto in loco resto in loco occorre che affluisca un veicolo adibito al soccorso dell'altrui mezzo intoniamo un padre nostro un campo al padre celeste 26esimo di del mese tra gennaio e marzo se non cado in aberrazione